ciao a tutti e bentornati su ferrara web in questo video voglio affrontare una questione molto delicata ossia l'eterna guerra tra apple e pc chi ha ragione chi ha torto per me è una cagata pazzesca in realtà chi tenta di mettere a confronto queste due realtà sbaglia di grosso vuol prendermi in giro i tanti commenti che leggiamo sotto i video pro apple o pro pc che attaccano l'una o l'altra realtà sono di persone che in realtà non capiscono la vera natura di queste entità gli stessi video proposti da molti youtuber o molti articoli scritti dove leggiamo ad esempio a proposito degli ultimi apple con gli m1 ultra oppure gli m1 pro questi soc che sembrano essere rivoluzionali dove leggiamo titoli come il miglior computer del mondo ecco sono articoli e video proposte da persone che devono solo fare colpo in quel momento con un titolo clickbait sono persone che non capiscono in realtà di cosa stanno parlando e adesso vediamo il perché per confrontare due realtà bisogna che queste siano omogenee vi faccio un esempio estremo adesso non ci mettiamo a ridere sulla cosa ma per capire un po di cosa stiamo parlando e l'esempio che voglio citarvi è questo non posso paragonare un bicchiere d'acqua ad una pizza e dire qual è il migliore tra i due il bicchiere d'acqua è prodotto da madre natura che si fa tutta in casa si fa nel corso del tempo si è organizzata per far sì che l'acqua filtra attraverso le rocce venga filtrata purificata e poi ce la da potabile da bere dall'altra parte c'è un pizzaiolo che mette insieme degli ingredienti prepara un impasto e deve far sì che tutti questi ingredienti siano legati tra loro siano coerenti tra loro perché il risultato finale sia una buona pizza capite come sia impossibile paragonare le due cose non ha senso e la stessa cosa la ritroviamo proprio nel confronto tra apple e pc ora trasferiamoci sulla nostra lavagna ed eccoci qua sulla nostra lavagna per analizzare questa questo confronto tra apple e pc confronto che vedremo impari perché perché cominciamo ad analizzare apple cos'è è un'azienda che si produce tutto internamente dal soc al design al software al firmware sono tutti uffici che lavorano in stretta collaborazione all'interno della stessa azienda che diciamo come specifica iniziale ha delle caratteristiche ben chiare di un nuovo prodotto che deve essere sviluppato quindi tutti questi uffici lavorano per rispettare la specifica di un prodotto e lavorano in stretta collaborazione in simbiosi ora vediamo invece cosa c'è nel mondo pc qual è la situazione che porta alla realizzazione di un nuovo pc per quanto riguarda invece il mondo del pc oltre alla grande separazione che possiamo determinare tra mondo dei produttori e degli assemblatori però la situazione può essere riassunte in questo modo abbiamo intanto due brand intel e amd che producono processori e chipset ossia il processore è sappiamo il componente che esegue tutte le elaborazioni sul nostro computer mentre il chipset è un componente diciamo di collegamento tra il processore e tutte le periferiche esterne benché ormai i chipset contengano gran parte di queste periferiche come ad esempio i controller usb e altri dispositivi abbiamo poi produttori di schede madri che devono prendere il chipset e il processore di intel metterli su una loro scheda e aggiungerci tutto il contorno necessario a realizzare una scheda madre completa quindi un chip di rete un chip audio tutti i connettori del caso e tutto quello che può rendere una scheda più appetibile al mercato rispetto a quelle della concorrenza abbiamo poi i produttori di chip grafici come nvidia come amd e come la stessa intel adesso che però rilasciano delle specifiche per quanto riguarda la produzione delle schede grafiche la loro produzione diretta e minima quindi i produttori di schede madri diventano anche produttori di schede grafiche rispettando chi più chi meno le specifiche diciamo del produttore del chip e anche qui possiamo avere diverse variazioni sul tema per quanto riguarda una scheda grafica abbiamo poi produttori di periferiche come ad esempio stampanti scanner lettori di codice a barre webcam microfoni e i produttori di terze parti ossia magari di schede come possono essere schede di espansione usb per aggiungere il numero di porte al nostro computer oppure schede di rete wifi oppure lettori di smart card e anche questi devono mettersi in correlazione in questo mondo ed infine abbiamo microsoft che deve sviluppare un sistema operativo il più stabile possibile che non crashi mai che si deve adattare ad un parco processori sviluppato da intel e amd che sul mercato è al momento vastissimo perché non parliamo solo degli ultimi prodotti messi sul mercato inoltre abbiamo produttori di schede madri di chipset grafici schede grafiche terze parti e periferiche che devono produrre oltre all'hardware dei firmware dei driver e dei software a supporto che siano 100% compliant con il sistema operativo di microsoft che non crashino che non generino problemi capite ora quanto è complesso e frazionato il mondo pc dove ogni produttore tende a migliorare il proprio prodotto per raggiungere l'eccellenza ma non parliamo di complessità del prodotto è vero che l'architettura arm ha i suoi vantaggi rispetto alla x86 ma oggi come oggi abbiamo un parco hardware e software per questa piattaforma non indifferente e non è detto che migrare il tutto su arm riscontri il successo da parte dei produttori di terze parti per adeguarsi a questa nuova piattaforma ecco che qui l'equilibrio diventa difficile molto più semplice per apple che fa tutto in casa molto più complicato per un prodotto che è composto da pezzi fatti da società diverse ecco perché non è comparabile la situazione e chi lo fa sbaglia di grosso la stessa identica situazione si verifica nel mondo degli smartphone dove apple produce tutto internamente mentre per quanto riguarda tutti gli altri produttori abbiamo la stessa situazione un po' più semplice si ma molto simile a quella che si verifica nel mondo pc perché abbiamo produttori che devono prendere vari pezzi mi prendo il processore di snapdragon mi prendo la fotocamera di samsung e ci metto intorno tutto il resto per costruire il mio smartphone e poi devo andare a prendere il sistema operativo da google e adattarlo a tutte le periferiche che ho sul mio telefono e metterci la mia interfaccia grafica se non voglio lasciare un android stock spero che la spiegazione sia stata chiara ed esauriente e vi abbia finalmente fatto capire perché apple e pc non possono essere messi a confronto sono due mondi diversi il mondo apple è un mondo di nicchia è un mondo utilizzato soprattutto dai creator è un mondo di prodotti che benché abbiano un'estetica favolosa poi i gusti sono gusti ma sono prodotti che hanno comunque dei costi esagerati spropositati per quello che realmente poi offrono come hardware è anche vero che si tratta di un ecosistema il mondo apple è un ecosistema dove tutti i dispositivi possono facilmente scambiarsi dati e informazioni e sti cazzi dall'altra parte abbiamo il mondo pc un mondo diversificato dove possiamo spendere pochissimo come tantissimo dove possiamo creare un computer per il lavoro d'ufficio e creare la postazione da gaming per eccellenza oppure il computer mega potente per grandi elaborazioni il mondo della versatilità che sicuramente ha i suoi pro ma anche i suoi contro spero che questo video vi sia piaciuto che sia stato interessante e soprattutto che finalmente abbia messo un punto a questa diatriba tra apple e pc non sopporto più veramente di leggere commenti l'apple è migliore l'apple non crasha mai oppure l'apple costa troppo ma il pc si pianta windows fa schifo cioè avete capito che adesso sono due mondi diversi e che questi paragoni non hanno senso se vi è piaciuto il video mettete un like iscrivetevi al canale se tutti fossimo iscritti saremmo molti molti di più invece molti guardano il video senza iscriversi dai premete quel pulsante non vi costa nulla divulgate ferrara web ad amici e parenti attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni io vi ringrazio tantissimo e vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao